Ciao mamme di merda, benvenute su Butac. Questo è un po' scemo per un video che finisce comunque sul nostro canale YouTube, è perché voglio salutare il gruppo di amiche mamme a cui è dedicato questo breve video e ce ne saranno altri dedicati tutti a loro, speriamo. Mi hanno chiesto di fare una piccola rubrica, loro sono una pagina Facebook che mi ha invitato un po' di tempo fa a farne parte insieme a qualche... pochi, siamo veramente pochi uomini dentro al gruppo, qualche marito e qualche esperto, giusto per aiutarle, ma è un gruppo molto chiuso, è un gruppo di quelli dove per entrare devi rispondere anche a delle domande, non ho ben capito. Comunque cercano di fare corretta informazione per quanto riguarda i bimbi, magari non li trattano sempre benissimo, per questo si chiamano mamme di merda, ma si pigliano molto in giro, non sono le mamme pancine del signor distruggere. E io mi diverto a giocare con loro, però mi hanno chiesto, Michael Angel, perché non provi a fare una rubrica video per le mamme di merda della pagina? Magari può venire utile anche ai tuoi altri ascoltatori o telespettatori o YouTube, non so come si definiscono quelli che guardano su YouTube, i lettori di Butac sono i lettori, ma qua telespettatori, buh... Comunque, iniziamo la prima puntata di questa rubrica dedicata alle mamme di merda con un argomento che a me piace moltissimo, l'ambra nella dentizione dei bambini. Se non avete figli non sapete minimamente di cosa sto parlando, ma in realtà se avete figli e siete mai entrati in una farmacia e vi siete guardati attorno, vi accorgerete che in farmacia vendono delle colonnine d'ambra con delle sferette piccole, piccole, piccole. Diciamo così, l'ambra spesso e volentieri è quella che si vende nei negozi di gioielleria, è un sassone bello grande, no? Queste sono sferette piccole da mettere attorno al colo dei bimbi perché si dice che l'ambra abbia effetti terapeutici, faccia passare il dolore della dentizione. E il dolore della dentizione dei bambini può essere così forte da rendere dei genitori su loro in una crisi nervosa. Ve lo posso assicurare, ne ho due, abbiamo già passato con entrambi un pochino il momento più tragico, e l'hanno passato tranquillamente piangendo, lasciandoci svegli tutta notte quando era veramente tragico il dolore, ma è normale. Ci sono bimbi per cui invece questo dolore non si sente così forte, altri per cui si sente solo un po', dipende. Purtroppo la colonnina d'ambra è una leggenda urbana che è entrata nell'immaginifico di tantissime mamme. La leggenda vorrebbe che all'interno dell'ambra ci fosse un acido particolare che abbia delle proprietà taumaturgiche, si parla dell'acido succinico, se non vado errato, aspettate che sì, l'acido succinico. L'acido succinico in quale avrebbe poteri analgesici nei confronti dei poveri bambini. L'acido c'è all'interno, ma l'ambra è un materiale molto resistente. È stata millenni sotto terra, è resina che si è formata, non è dura, ma è molto resistente. Non lascia uscire un acido dal suo interno. E comunque, quest'acido, che è prodotto anche dal corpo umano, non ha effetto alcuno. Non esiste uno studio che dimostri che quest'acido abbia qualche effetto. L'idea della colonnina d'ambra attorno al collo del bimbo è una bufala. Mettergliela non serve a niente. Se il bimbo, dopo che ha avuto la colonnina, non avrà male, è per effetto placebo al massimo, ma non credo, perché il male dei denti fa proprio male. Ma più probabilmente è perché in questo momento non gli stanno facendo così male come prima. Il fatto che ci siano tanti, però, che continuano a campare vendendo queste colonnine d'ambra sui bimbi, a me dà molto fastidio. Anche perché nella vita vera io vendo ambra. Vendo ambra seria, vendo ambra anche abbastanza costosa, e so perfettamente, visto che la tocco e la tratto tutti i giorni, che non ha nessun potere speciale. L'avesse, la venderei anch'io, esattamente nella stentica maniera. Magari portando prove scientifiche di queste capacità particolari. Non esistono prove scientifiche. Chi ve la vende vi sta vendendo un prodotto inutile. Volete mettere al collo del vostro bambino perché vi piace? Aspettate che abbia 6-7 anni, così magari non fa la fine di quei poveretti che sia negli Stati Uniti che in altri paesi del mondo sono morti, soffocati, perché hanno rotto la colonnina stringendola tra i denti o giochichiandoci con le manine. Stiamoci attenti. Mamme di merda, la colonnina d'ambra non serve a niente. Toglieteglela, buttatela via, compratela, mandate i vostri mariti a comprare una bella colonnina d'ambra per voi. Quindi quello sì che servirebbe a qualcosa, a me a far vendere una colonnina d'ambra. Ma questa è un'altra storia, non c'entra niente. Come al solito, iscrivetevi al canale. Oggi non leggo un commento perché da oggi vorrei leggere i commenti sotto a questa rubrica solo delle mamme di merda. O meglio, solo delle mamme, solo dei genitori, solo di chi si riferisce a questi video. Non so neanche io cosa sto dicendo, ma è poco importante. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, iscrivetevi al canale, campanellina per le notifiche e lasciate un commento così finalmente la prossima volta ce n'è uno. Ciao! Ciao!